Un concorso per attori e attrici con monologhi pirandelliani proposti ad una giuria di esperti e al pubblico. È l'ultima iniziativa presentata ieri nella Sala della Concordia del municipio di Fano, che rientra nel programma di eventi, iniziato lo scorso anno per celebrare i 150 anni dalla nascita di Ruggero Ruggeri, attore ideale di Luigi Pirandello. La città natale continua così a celebrarlo con un programma europeo, promosso dalla Rocca Malatissiana, Fondazione Garifano, Bicicifano, Comune, Fondazione Teatro della Fortuna e Accademia di Belle Arti di Macerata. Abbiamo pensato di lasciare la possibilità a tutti di partecipare senza la concezione del professionismo. Il professionismo è qualcosa che si matura, quindi diamo la possibilità di essere intanto protagonisti. Quindi chiunque può partecipare avendo meno di 30 anni da tutte le parti d'Italia. Abbiamo sentito anche i giovani dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, della Scuola Palo Grassi di Milano, ma sicuramente sto avvertendo con le iscrizioni che avvengono che ci saranno molti partecipanti dal territorio, perché in effetti piace l'idea che si possa in qualche modo creare un'interpretazione pirandelliana libera. I candidati si dovranno cimentare in brevi monologhi e la prima selezione avverrà sulla base di un video autoprodotto, anche con un cellulare, che ogni partecipante dovrà inviare entro il 30 aprile agli indirizzi mail di Fanno Rocca, del direttore artistico Puliani e della segreteria organizzativa. Chi passerà alla prima fase potrà partecipare a un breve corso in programma giovedì 26 maggio. Il giorno successivo poi è prevista l'esibizione pubblica del monologo, mentre sabato 28 e domenica 29 maggio i vincitori effettueranno, con prestazione retribuita, alcune performance teatrali e audio, sei in totale. L'importo complessivo messo a disposizione dall'organizzazione è di 1.500 euro. Nel momento in cui la commissione giudicatrice riterrà valida questa interpretazione, avranno un contratto di lavoro per rappresentare insieme ai lavori delle produzioni delle scuole, del liceo, Nolfi e Apolloni, potranno benissimo trovare questa convivenza immaginaria, dove appunto ci sarà la possibilità di rievocare la voce straordinaria di Ruggero Ruggeri, soprattutto nell'Enrico IV e quindi la follia, la malattia, l'identità di Pirandello entreranno proprio nelle interpretazioni contemporane che piacciono ai giovani, che sentono i giovani. La commissione giudicatrice sarà composta da attori e docenti, Carlo Simoni, Arianna Ninchi, Matteo Giardini, Pierfrancesco Giannangeli, Massimo Puliani, il presidente Giorgio Gragnola e Monica Pucillo, che si occuperà della segreteria. Sarà attivata anche una votazione da parte del pubblico che verrà acquisita ai fini degli attestati e riconoscimenti. L'opportunità che si dà ai giovani di cimentarsi in queste performance teatrali che vedranno appunto poi anche un vincitore, che si esibirà nel luogo di Ruggero Ruggeri, perché Palazzo Bracci Pagani è l'edificio dove è avuto in Natale Ruggero Ruggeri, quindi questa è un'iniziativa che ci dà particolarmente soddisfazione proprio perché mette insieme sia le celebrazioni di questo nostro concittadino insieme a un'opportunità per giovani attori.